Vi saluto tutti e ringrazio di essere intervenuti a questo colloquio che facciamo con il professore Alberto Melloni, che non ha certamente bisogno di presentazioni, è un docente dell'Università di Bologna anche, credo, mi pare di ricordare, è uno studioso di storia della Chiesa come non ce ne sono altri in Italia, è studioso del Vaticano II, ha scritto una quantità di libri, di articoli, collabora con il Corriere della Sera e quindi è un osservatore, più che un osservatore, è proprio uno studioso al quale io sono incaricato di porre delle domande. Il caso vuole che ci troviamo qui questa sera a parlare di Papa Francesco, mentre nelle chiese, anche qui a Mestre e nelle chiese un po' di tutta Italia, si sta facendo la veglia richiesta dal Papa, oltre al digiuno, per scongiurare la guerra in Siria. È uno dei temi di cui vorrei parlare con Alberto, però comincerei con il pre, cioè noi siamo qui a dire che cosa Francesco insegna alla politica, no? È il tema che ci è stato dato e però per capire Francesco credo che Melloni possa raccontarci un po' come si è arrivati a Francesco, perché abbiamo vissuto un fatto epocale, abbiamo smentito il famoso proverbio fatto un Papa se ne fa un altro, morto un Papa se ne fa un altro, invece qui non è morto un Papa ma se ne è fatto un altro lo stesso. E quindi la prima domanda che volevo fare a Melloni era proprio questa, ecco. Arriva Francesco con un altro Papa in carica. Questo fatto segna un trauma nella storia della Chiesa notevole, ecco. Dalle tue conoscenze, ecco, la prima domanda che ti voglio fare è proprio questa. Papa Benedetto si è dimesso secondo te per quali motivi e che cosa ha spinto questo Papa a compiere un gesto che per molti cattolici è stato un gesto molto forte e molto traumatico, ecco. La Chiesa viene e vive ancora diversi problemi. Il sondaggio che l'SVG ha fatto in occasione di queste giornate di Festival della Politica mentre dice, mi chiedeva prima la collega, mentre dice che il 63% degli italiani al 63% degli italiani, questo Papa piace molto, contemporaneamente con la stessa percentuale gli italiani dicono che il 63% fatica a credere alla Chiesa. Ecco, quindi c'è questa doppia risposta che segnala i problemi che ha avuto la Chiesa in questi ultimi tempi gli scandali legati all'oyor, legati all'amor-sessualità dei preti, alla pedofilia. E quindi il carico anche di lotta intestina come è risultato dai documenti che sono usciti all'interno del Vaticano e della Curia. Insomma, una quantità di cose che probabilmente, penso io, hanno portato Benedetto a mollare la presa. Tu Alberto che cosa ne pensi? Se dedichiamo a quello questa serata bisogna che ci vediamo domani sera per la seconda parte, però proviamo a farlo in un tempo ragionevole. Allora, credo che tutti quanti sperimentano in questo periodo una cosa tutt'altro che insolita all'interno della lunga storia cristiana, che è il tempo di una primavera. La sensazione che c'è qualcosa di interessante che si sta vivendo, che alla fine poi si riduce a quella cosa semplice che dicevi tu, che alla fine alzi la mano chi non ha mai fatto la domanda o chi non se l'è mai sentita fare, la domanda è ma te ti piaci il Papa? Sì, no? O uno ha fatto la domanda o ha risposto di sì, ma questa è una cosa che ha riguardato tutti quanti. Le primavere della Chiesa hanno questa caratteristica, quella di arrivare senza segni premonitori. è normale che sia così e hanno anche la caratteristica normalmente di essere seguiti da inverni abbastanza lunghini, sull'estate e sugli autunni siamo scarsi momentaneamente, e hanno anche qualche volta la caratteristica di essere molto molto brevi e deludenti. Nessuno vuole menargramo, però Pio IX fu accolto per un periodo brevissimo, però come una grande apertura, una grande novità, ci si aspettava che avrebbe aiutato l'Unità d'Italia. Più indietro ancora, all'inizio del Cinquecento, Leone X è il destinatario di un famoso, famoso, non è vero, ma insomma di un importante, il librettino, il Consiglio de Bendan d'Ecclesia, roba di queste parti, Quirini e Giustiniani, che gli dicono cosa deve fare per riformare la Chiesa perché se non la fa la riforma succederà al Patadrach. Milone X non la fa, e il Patadrach nel 17, quello del 1510, nel 1517 il Patadrach arriva. Per cui noi oggi viviamo questa condizione un po' nuova, diciamo, per una buona parte di persone, di una stagione di grande fiducia, di grande speranza. Una stagione che segue una cosa che io credo vada interpretata con una certa attenzione in un certo rigore. Che la curia romana sia una sentina di vizi, di carattere finanziario, e non solo, è cosa che è vera, l'Ira hanno più, hanno meno, da 750 anni. Che il clero abbia una caratteristica statisticamente molto significativa, fa più o meno i peccati che fanno gli altri e i crimini che fanno gli altri, questo è vero addirittura da sempre. Allora, cos'è che è successo in un periodo abbastanza breve che è stato l'ultimo rino del papato di Ratzinger? È stato che una serie di eventi che erano per sé non insoliti o non infrequenti si sono tamponati l'un con l'altro. Lo Ior non è una disgrazia che abbia inventato Ratzinger e onestamente in questa specie di grande putiferio che è stato quello della crisi finanziaria, di crisi di debiti sovrani, forse non è neanche la banca che ha fatto le schifezze più grandi. In ogni caso c'è stata una buona concorrenza sul filo di lana fra le banche ecclesiastiche non a fare cose riprovevoli. Non ha trafficato con la mafia, con dei delinquenti e degli assassini come ai tempi di Marcinkus e dello Ior sotto Giovanni Paolo II. È stato però il coacervo lì di una lotta interna molto forte e molto violenta. Molto forte e molto violenta nella quale la mia impressione è stata quella che non è stato il fatto che le cose siano state dette, che le ha cambiate, ma è stato il fatto che per una caratteristica del nostro sistema informativo è stato per la prima volta possibile l'uso di armi non convenzionali nella lotta interna ai gruppi di Curia. E l'arma non convenzionale è la più semplice che ci sia, è stato il giornalismo. Io ho grande rispetto per il lavoro che fanno i giornalisti e anche per il lavoro che ha fatto Nuzzi. Nuzzi non ha fatto un lavoro giornalistico. Qualcuno gli ha dato delle cose da pubblicare e quelle cose da pubblicare avevano dei bersagli e degli obiettivi. Questa è un'abitudine che non ha inventato lui, è un'abitudine che è stata usata, se non mi sbaglio, per la prima volta nella chiesa italiana contro l'azzati. Ci sarebbe un episodio antico ma è più sofisticato. La prima volta che venne usato il dossieraggio è stato nel 62 da Montanelli contro Papa Giovanni. Dal Sant'Ufficio vennero passate delle carte che riguardavano la giovinezza di Papa Giovanni e le accuse di modernismo e tre articoli in tre giorni consecutivi del Corriere di Montanelli novembre 1962 Papa Giovanni e Tumorato con ciglio aperto e servivano a far funzionare questo meccanismo. Chiaramente il sistema è andato fuori controllo ed è andato fuori controllo per una ragione che invece non veniva da cose di lunghissimo periodo ma veniva da cose più recenti ed è quella che anche la chiesa ha conosciuto un drammatico calo delle proprie classi dirigenti. non è un calo in senso ideologico che sono stati più conservatori anziché servatori no proprio un calo, un calo della qualità, non dal punto di vista etico, un po' boccaccesco della ricerca dei peccati del sexto dei preti ma dal punto di vista della qualità della visione delle cose e questo ha deflagrato. La dimissione di Ratzinger sono avvenute per i motivi che Ratzinger ha detto. Il presidente è una persona troppo seria per andare davanti al collegio cardinalizio, fare una cosa che gli faceva tremare la voce, sbagliare gli accusativi e dire delle frottole. Ha detto la verità, ha detto esattamente la verità, ha detto due cose importanti, ha detto che aveva esaminato la sua coscienza davanti a Dio, la sua coscienza davanti a Dio, cioè che aveva fatto una decisione che non riguardava la chiesa, non riguardava quelle cose, riguardava il modo in cui lui si rapportava con il Padre Eterno e il modo in cui lui davanti a Dio si sentiva in coscienza di doversi comportare, essendo uno che aveva ambito al papato, non uno che era diventato papa per sbaglio, uno che aveva ambito al papato. E ha detto che fatto questo esame di coscienza davanti a Dio si era reso conto di non avere il vigore del corpo e dell'anima per esercitare il ministero Petrino. Che questo sia drammatico perché è stato anche fatto da Roberto Rusconi in maniera molto puntigliosa ed esatta se si fa il confronto fra le dimissioni di Celestino V, le uniche che possono vagamente assomigliare a quelle di Ratzinger e quelle di Ratzinger, si vede che questa dimensione è stata molto più pronunciata e forte. Questa ha aperto una crisi nella quale il conclave è andato a cercare in una serie di giorni e con un successo strepitosamente più efficace di quello maturato da noi al momento della scelta più semplice del Presidente della Repubblica. E' andato per un po' a Tentoni e poi ha preso da ultimo una strada. A Tentoni c'è andato quando soprattutto i vescovi americani, i cardini americani ma non solo loro, avevano l'idea che le dimissioni di Ratzinger dovessero portare la Chiesa a cercare un nuovo Papa che, io ho usato questa espressione irriverente ma insomma per capirci, insomma bisognava fare Papa Rambo I. Cioè un Papa cattivissimo col coltello fra i denti che girasse di notte per i giardini vaticani e staccasse la testa ai suoi nemici e così via, facesse collezione a bombe diciamo, delle cose che c'erano da fare. Cosa che non è che non ci fossero i problemi da risolvere su quel piano lì, ma davano come l'impressione che la questione fosse manageriale e non teologica. Che la questione fossero i bisogni della curia romana, cioè che arrivassi il Castigamatti che rimetteva le cose in ordine e non ci fosse invece una sete della Chiesa che è quella che alla fine è stata quella che ha determinato la scelta di Bergoglio. Cioè non un esperto di macchine, di macchine organizzative, nel caso come è stato fatto per la Parmalat e per altre aziende, doveva fare Papa Bondi in Italia, sarebbe stato l'unico che avrebbe fatto la Bad Company, esattamente, avrebbe fatto la Bad Company, venduto la Bad Company della Chiesa Cattolica. E invece ci volesse un Papa che fosse capace di parlare la lingua cristiana, di parlare il cristianesimo. E questa è la caratteristica principale di Francesco, se non sbaglio. Ho un piccolo vanto nella storia di Papa Francesco, perché credo che la Nuova, il Mattino, la Tribuna e il Corriere delle Alpi, che sono i giornali che dirigono, siano stati gli unici giornali a mettere la foto, la vigilia dell'elezione di Bergoglio, indicandolo come possibile Papa. Lui, quando viene eletto, dice una cosa, secondo me, che annuncia. Dice, vengo dall'altro mondo. Che non è solo un dato geografico. Io l'ho interpretato proprio come la scelta della Chiesa di non prendere un Papa europeo, ma per fare quel lavoro che tu dicevi adesso ci fosse anche bisogno di una personalità che venisse dall'altra parte del mondo. È vero che lui lo fa col sorriso, però un po' di spoil system l'ha già fatto mica male. Con il sorriso, ma insomma, non ha il coltello tra i denti, ma lo spoil system lo sta facendo, cosa che per esempio i politici fanno molto più lenti a fare queste operazioni. I ministri cambiano, però la struttura resta quella e le cose cambiano poco, perché poi quelli che comandano sono i direttori generali. Lui sta facendo un notevole cambiamento in varie situazioni e in vari punti importanti. Nei giorni scorsi, appunto, sulla guerra ha fatto l'intervento, la lettera a Putin, eccetera. Ma anche sugli altri argomenti, lui sembra voler accennare a un ripensamento di posizioni della Chiesa. Ora, noi nel Catechismo è stato inserito dopo Veitila, dopo la guerra dell'Iraq, il principio della guerra giusta. Le posizioni che sta prendendo adesso Papa Francesco sembrano andare oltre quell'annunciazione. Sì, sulla crisi siriana credo si veda abbastanza bene quelle che sono alcune caratteristiche dello stile di Bergoglio, che è uno stile che ha dentro molta sostanza e molto contenuto e che è uno stile che, questo fa parte delle caratteristiche della sua elezione, era così anche prima, era noto a tutti, cioè chi lo conosce sa che Bergoglio era così, non è che è diventato così da Papa. No, era proprio così. Ed era uno stile che l'altra volta aveva perso. Questo non va dimenticato. Cioè nel 2005, quando muore Veitila, Bergoglio è uno dei candidati, e uno dei candidati che se sono vere sono abbastanza vere, mi sembra. Le informazioni che sono state raccolte da alcuni giornalisti dopo l'elezione è un candidato che arriva a 41 voti, 41 voti nel sistema conclavario, che è fatto con i due terzi, vuol dire qualcosa di molto importante perché, dato che ci vogliono i due terzi dei voti per diventare Papa, se tu ne hai 41, quello là Papa non diventa. E fu Martini che stoppò Bergoglio e puntò su Ratzinger per una ragione tutta italiana, e cioè l'idea che se per caso fosse caduto Ratzinger, dietro Ratzinger sarebbe stato il successivo candidato un italiano, che allora faceva il presidente della CEI, e che Martini considerava la peggiore delle eventualità possibili. E che dunque, pur di evitare questo tipo di rischio, si doveva sacrificare, diciamo così, la candidatura di Bergoglio. Siccome non era vero, ma insomma questo non conta niente perché non c'ero e poi è andato diversamente. Bergoglio, che diventa Papa, si porta dietro in questo stile alcune cose che abbiamo visto in queste settimane. Prima cosa, c'è una grandissima sicurezza nella scelta dei tempi. Cioè, la crisi siriana non è nata oggi, in Siria non è che c'è la pace e potrebbe esserci la guerra, c'è già la guerra e la cosa che il Papa rifiuta è l'idea che aggiungendo delle bombe si ottiene la pace. Questo l'ha detto la prima volta a giugno in maniera che a me era sembrata un po' esile, in un angelo su un accenno. L'ha ridetta in luglio, l'ha ridetta in agosto e poi quando è arrivata l'annuncio che gli Stati Uniti improvvisamente, fra sabato e domenica, decidevano di cambiare strategia e di passare alla scelta di intervento militare unilaterale in Siria, è rimasto fermo. In attesa che uscissero dalla serie di ispettori ONU, perché finché c'erano gli ispettori era evidente che queste erano solo chiacchiere. Quando usciti gli ispettori è diventata concreta la minaccia, ha fatto una serie di passi che sono stato un escalation fino a quella di questa sera, onestamente di enorme portata, perché è vero che contro la guerra hanno parlato praticamente tutti i papi. Ce scudo l'ha fatta alla sua maniera però. ci sono stati i papi, diciamo così, fortunati, come benedetto X V, che disse quella famosa frase sull'inutile strage della Prima Guerra Mondiale e ha portato alla Santa Sede un gran bene, perché le ha fatto fare la figura dell'unica che aveva il coraggio di dire quello che non se ne aveva detto. Era l'agosto del 1917. non è proprio che c'era arrivato in due secondi, che il 2 d'agosto gli era venuto in mente tutto. Più dodicesimo alla visita della Seconda Guerra Mondiale fa quella famosa allocuzione tutto può essere perduto, con la guerra niente lo è con la pace, in un contesto molto diverso nel quale le cose sono andate diversamente. La cosa a cui assomiglia più l'intervento di Bergoglio di questa settimana è l'intervento di Roncalli durante la crisi di Cuba dell'ottobre del 62. Perché è un intervento che tende a legittimare, a responsabilizzare le parti. Poi Bergoglio l'ha fatto recuperando una frase di Montigny all'ONU, che fa molto tweet, mai più la guerra, mai più la guerra, frase che però Montigny all'ONU disse, spiegando che la guerra è frutto del peccato e dunque, date che gli amici poi i peccatori sono, mai più la guerra, mai più la guerra, però andrà a finire che la fa, è inutile far finta di non saperla. Ed andate a recuperare di più l'esempio di Assisi dell'86 di Giovanni Paolo II. Cioè l'idea di una mobilitazione, di un impegno delle religioni e non solo dei credenti, ma anche dei credenti e dei non credenti, come ha aggiunto Ratzinger nel 2011 in questa circostanza. Di sicuro questo cambia parecchio le cose perché è un Papa che si muove fuori dal contesto europeo, la debolezza europea che davanti a un'eventualità come la guerra si nasconde dietro al ditino delle procedure ONU è una cosa che non gli fa né caldo né freddo. Proprio una cosa che non lo sfiora e non lo tocca. Non ha paura di fare appello al popolo. La cosa di oggi è interessante perché non è come Assisi una riunione di grandi capi che fanno una cosa televisiva e il popolo sta a casa e lo guarda per televisione. Ma questo aspetto del popolo ha anche aspetti delicati, ambigui, non è solo positivo e zuccheroso. Però non ha paura di fare una mobilitazione su questo, se non ha paura vedremo le cose che sta dicendo, temo, per colpa mia e tua ci stiamo perdendo il bello della diretta. Vedremo le cose che dirà se sono le cose che ha scritto a Putin e le cose che ha letto all'Angelus sono cose molto nette e molto forti perché sono un giudizio teologico sulla guerra. Questo, e così ti alzo la palla per la domanda, questo è interessante perché riguarda le dimensioni di politica internazionale e di posizionamento medio orientale. C'è stato il cambio del segretario di Stato, io, devo dire la verità, ho qualche resistenza a questa moda per cui Bertone, che fino a ieri l'altro era il massimo che c'era appena, è stato detto che non è più segretario di Stato, non è più segretario di Stato, non è più segretario di Stato, mi sembra una cosa un po' italiota, questa mania di affannarsi, di dire il carro del vincitore, di sputare sulla gente che perde. Per esempio, sulle cose italiane, sulle cose europee, l'atteggiamento del Papa per ora è rimasto molto distante, molto fermo e la scelta che ha fatto del segretario di Stato, ancorché italiano come era ragionevole che fosse, è una scelta che punta più a dimensioni di politica internazionale che non a quelle italiane. Ecco, proprio su questo, prima hai detto che nell'atteggiamento, nei confronti della guerra ti ha ricordato Giovanni XXIII, a me lo ricorda per tante cose, sì, Papa Giovanni, per tante cose me lo ricorda, intanto il fatto del saluto, andate alle vostre case e date, lui saluta, buongiorno, augura buon appetito, a pranzo, ecco, e poi ha tutta questa serie di gesti che sono, come dicevi tu, per lui abituali, non è che lo faccia perché è Papa, cioè, abbracciare i bambini, salire con la borsa sull'aereo, cioè, era un cardinale che viaggiava con i mezzi pubblici, andava nelle favelas e quindi, non è che sta recitando una parte, è lui così. Questo fatto, che ha una presa fortissima di simpatia, finisse per togliere quell'aurea di sacralità attorno al Papa, che pure Ratzinger ha mantenuto, ha ritirato fuori l'ermellino, le scarpette rosse, il copricapo, cioè, Ratzinger tendeva ancora a segnare questo fatto di una figura sacrale, adesso non so se perché sono in due con vestiti di bianco, il secondo deve fare quello più casereccio, però, ecco, quello che mi chiedo da cattolico, se questa cosa di questa grande capacità di comunicazione, di essere così alla portata di mano, per cui alza il telefono e dice battezzo il tuo bambino alla ragazza che decide di non abortire, oppure, come ha fatto con il giovane padovano che ha consegnato una lettera, l'ha chiamata a telefono, spronto sono il Papa, lui era fuori, dice richiami, poi lui ha richiamato e ha ritrovato il ragazzo, ecco, questa cosa che è molto, molto bella perché parlare col Papa voglio dire, era un famoso detto che è più difficile che parlare col Papa, con te è più difficile che parlare col Papa, adesso è diventato facile pure parlare col Papa, ecco, dal punto di vista della sacralità della figura, ecco, che implicazioni può avere, ecco, quale, diventa uno di noi il Papa e se è uno di noi è ancora il Papa o è uno di noi? non so se è chiara la... Sì, sì, ma a me verrebbe da dire che forse il pericolo paradossalmente potrebbe essere addirittura quello rovesciato, cioè la caratteristica che hanno avuto i due pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI per come la vedo io è una caratteristica comune nella differenza grande di stile che c'era fra i due però era il punto davvero comune ed era il punto di rottura del 78 con i Papi del Concilio. e nel 78 quando Voetile è stato eletto l'idea era quella che il montinismo che fosse tutto una cosa debole la mediazione il dialogo e basta e ci vuole l'identità. No? Ci vuole l'identità. I due papati di Ratzinger e Voetila hanno avuto al loro centro quest'idea che la Chiesa per avere forza deve usare forza. nel piccolo del ruinismo il caso della politica italiana è stato esemplare da questo punto di vista. In questo pur appunto anche lì delle differenze di tante cose però l'atteggiamento che aveva quella conferenza episcopale di quegli anni lì era esattamente quello lì. Bisogna essere prepotenti con il Parlamento. Perché? Perché sì. Ci si guadagna? No. Si fa bella figura? No. Si ottengono delle leggi migliori per tutti? No. L'apoteosi di tutto questo è stata la legge 40. Il cardinale di Bologna che è un sincero conservatore era convinto che la legge 40 andasse abrogata perché non corrisponde alla dottrina cattolica. Io ho una posizione che ho molto rispettato perché mi sembra giusto che in una società aperta ci sia posto per tutte le posizioni e non ci sia qualcuno che ha torto per principio. La conferenza episcopale si schierò sulla legge 40 con il governo per una ragione di tipo tattico perché aumentava quel tanto di prepotenza che faceva sentire la Chiesa forte. Il risultato di questo paradossalmente è stato disastroso dal punto di vista politico ma ha avuto un effetto importante ed è quello che quello si ha desacralizzato il papato. Quello si ha desacralizzato il papato. Ha dato ha fatto perdere prestigio ha fatto perdere autorità per donare quattro vescovi di cui uno è un antisemita negazionista conclamato fascista come era Williamson è una cosa che non ha dato sacralità al papato che faceva un gesto a suo modo di bontà e di misericordia ma ha dato l'idea che ci si può sbagliare. paradossalmente il rischio che c'è è quello che un papa come questo che per primo scrive la collegialità episcopale nell'agenda del papato moderno finisca per avere un incremento involontario di papismo per cui tutti quanti come dire si identificano e il 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 brand papale come tale tende a a crescere che sono cose sulle quali lui credo sia molto consapevole ecco però c'è il rischio del papismo però su basi su diciamo fatti segni e non pensieri per cioè se l'adesione al papa avviene solo su quelle manifestazioni che sono così di popolari e di vicinanza poi bisogna vedere dal punto di vista dell'elaborazione del pensiero se c'è una conseguenza che è un po' il risultato di quel sondaggio di cui accennavo prima che grande adesione al papa e grande sfiducia nella chiesa che non ci sta insieme tutta questa roba con questo ci mancherebbe solo già è difficile la fede in Dio figurati quella della chiesa ci mancherebbe quella se è obbligatoria quella è finita non ce n'è per nessuno la cosa su cui Bergoglio sta facendo un'operazione molto significativa di cui credo tanti oggi si rendono conto è quello che rimette in ordine delle priorità che sono delle priorità dottrinali e mi spiego a me ha sempre colpito la disinvoltura con cui è stata usata questa espressione dei valori non negoziabili espressione curiosissima perché viene dal fondamentalismo protestante dell'America degli Stati Uniti meridionali degli anni 20 espressione curiosa perché i valori non sono negoziabili per nessuno se no che valori sono cioè ciascuno ha i suoi valori non negoziabili se non sono negoziabili non sono e negoziabili vuol dire proprio quello che hanno un valore che gli viene dato e attribuito e che non ce l'hanno in sé perché sarebbero dei principi e questo è un'altra cosa sui principi avete si d'accordo e questo tipo di cosa qua ha fatto sì che la percezione comune per esempio durante il pontificato di Ratzinger fosse quella che il cattolicesimo fosse quella specie di strana cosa in cui non è così importante credere in Dio l'importante è ammettere almeno Dio come ipotesi perché questo è il bene della società che le uniche tre cose importanti del cristianesimo fossero l'aborto su cui dico qualcosa la questione dei diritti delle coppie omosessuali e poi la questione dell'embrione cosa che facevano dire a un parroco saggio non ve lo posso fare in dialetto reggiano però sarebbe la cosa migliore per darvi l'idea dicendo io in questo mondo non mi ci riconosco più solo le donne vogliono fare il prete solo gli omosessuali vogliono sposarsi e dava questa specie di strana concentrazione abnorme su tre questioni che hanno un peso ma che ne possono avere a parità di dottrina anche un'altra questione un vescovo che adesso ha fatto cardinale quindi non posso più dire chi è poveretto una volta aveva fatto un calco mi ha fatto molta impressione diceva noi non sappiamo quanti fossero gli aborti clandestini prima della legge dopo la legge lo sappiamo e sono stati da là ad oggi grosso modo il calcolo di qualche anno fa può darsi che il numero sia un po' cresciuto comunque erano stati all'incirca 5 milioni lui diceva dato che l'esperienza di torno della gravidanza è comunque un'esperienza traumatica e i 5 milioni di donne che hanno abortito perché le recidive sono bassissime ne avranno parlato con la mamma col papà con un'amica dato che non sono restate incinta da sole anche quell'altro per una qualche ragione ne avrà parlato con la mamma col papà e con un amico il totale fa 40 milioni per cui al netto degli infanti e dell'alzheimer l'aborto in Italia ha toccato tutti tutti c'è qualcuno che lo sa meglio di chi la domenica sta in un confessionale no chi sta in un confessionale lo sa benissimo lui lo si può dire Don Mirco Bellora parroco del suffragio di Milano che faceva l'ultima parte della formazione dei preti della diocesi quando andavano da lui questi giovani pretini a fare l'ultima parte di formazione dopo l'ordinazione gli dava come rego gli diceva tu puoi parlare dei peccati dal pulpito solo dopo che ne hai assolti 100 tienti un quadernino e quando sei a 100 di quello lì puoi parlare prima no perché prima non ne sai niente è lo stesso tipo di atteggiamento ma cambia di molto sulla questione dei diritti degli omosessuali è stato il pasticcio fatto ai tempi dei dico sulla legge Bindi Pollastrini che ha creato il pasticcio in cui si è si è adesso perché l'idea che una comunità vessata e minoritaria che ha patito delle sofferenze inaudite identifichi il proprio diritto con l'acquisizione di tutto quello che fa parte della negazione questo era la cosa più prevedibile del mondo la più prevedibile del mondo ci mancherebbe altro e cosa devono fare chi mai ha conosciuto una minoranza vessata fino al sangue vessata fino al sangue che è in grado di pensare alla propria emancipazione in un modo diverso da questo dopodiché se una cosa di cui non si deve parlare no se ne può parlare per l'amor di Dio bisogna imparare a parlarne rispettando anche le posizioni che mettono dei dubbi secondo me non è non è sbagliato non perché ci si debba adeguare ma perché deve essere una discussione davvero aperta non ci devono essere automatismi però è una discussione che se va al suo posto ha un paio di maniche i discorsi che fa Bergoglio quando parla di Gesù dicono una cosa che nell'equilibrio della fede cristiana è fin ovvio o banale cioè al centro c'è quello lì c'è Gesù poi ci sono un miliardo di conseguenze ma confondersi il centro con le conseguenze vuol dire rischiare di far diventare quando Bergoglio usa questa espressione dell'ONG perché la chiesa non è un ONG non è neanche una fabbrica di morale low cost ecco a proposito a proposito dei gay ha avuto quella affermazione che è stata molto sottolineata che sono io per giudicare anche su questo punto cambia molto la prospettiva di approccio al problema perché non dico che è un'apertura ma è comunque un discorso di atteggiamento di ascolto e di comprensione rispetto a quello che è stato invece un atteggiamento molto diverso finora nella chiesa in confronti dei gay l'altro argomento che volevo affrontare con te è questa cosa dell'enciclica l'enciclica a due mani e e la l'indiscrezione e qui ti chiedo se hai notizie più aggiornate perché occupandoti di questo potresti di questa prossima enciclica che guarda caso secondo l'indiscrezione avrebbe un titolo Beati Pauperes e quindi un'enciclica sulla povertà e quindi su un filone che ritorna alle encicliche sociali almeno penso che sia una una cosa di questo genere non lo so comunque ecco l'ultima enciclica che ha fatto assieme a Ratzinger che è più ratzingeriana che non che non vergogliana direi e la possibilità che appunto su questo fronte perché alcune scelte che ha fatto Gutierrez mi pare che si chiama il che è un un cardinale un vescovo un vescovo non è un vescovo è un frate ecco della chiesa della teologia della liberazione no ecco in questi giorni in Veneto c'è Leonardo Boff e io ho pensato che tutte queste coincidenze l'indiscrezione che sia su l'enciclica su Beati Pauperes potrebbe esserci su questo fronte un'apertura una revisione degli atteggiamenti della chiesa nei confronti della teologia della liberazione pensi che sia possibile con Bergoglio che sostanzialmente poi ne ha visti di questi preti all'opera nella sua carriera in Sud America dunque andiamo dall'enciclica a quelli che dico dall'enciclica a quattro mani io tolgo il saluto perché l'enciclica che Bergoglio ha firmato è l'enciclica di Ratzinger e Bergoglio se l'è cavata con un gesto elegante e anche astuto se non fosse una battuta il riverente verrebbe da dire no no ce n'è una sola verrebbe da dire con un'astuzia gesuitica secavato dall'impiccio cioè era già capitato nel 39 che ci fosse l'enciclica del Papa morto del cassetto o il discorso del Papa morto del cassetto cosa fai con l'enciclica del Papa morto del cassetto cosa fai tutti quelli che l'hanno buttata via prima o poi hanno avuto un sacco di guai che hanno detto carogna era già fatta che problema c'era e Bergoglio se l'è cavata in maniera molto elegante questo era un testo che più ratzingeriano non si può che più ratzingeriano non si può e lui gentilmente ci ha messo la firma non gli è costato niente alzi la mano che si ricorda due righe dell'enciclica a quattro mani dai una riga il titolo l'enciclica a quattro mani si chiamerà che ne so io è scivolata nel dimenticatoio come tendono a fare negli ultimi anni le encicliche poi ma è stato così anche le bolle una volta erano molto importanti oggi non contano più le encicliche anche loro ormai sono diventate come una specie di prodotto da banco con la data di scadenza durano quel tanto che c'è l'articolo Messori dice che è bella Mancuso dice che è brutta basta ciao fine dell'enciclica e più o meno vanno così il Papa che si vuole misurare col tema della libertà lo faccia con un enciclico in un altro modo questo non lo so ci aiuta a capire due o tre cosettine prima cosa per merito barra colpa comunque per scelta di Ratzinger alla teologia della liberazione è accaduto quello che era accaduto nel 1907 ai tempi del modernismo con Pio X cosa fece Pio X Pio X si fece un'idea vedeva tante cose che non c'entravano un accidente l'una con l'altra un prete marchigiano che fa la democrazia cristiana quell'altro a Vicenza che scrive i romanzi il santo e gli altri che non vogliono più cantare il gregoriano l'esegesi storico-critica l'uasì l'apologia a un certo punto gli viene un'illuminazione e dice orca è tutta la stessa roba è la madre di tutte le eresie la somma di tutte le eresie il modernismo e con quest'idea del modernismo inventa il totalitarismo la polizia segreta la persecuzione le denunce anonime tutte quelle cose lì che poi verranno industrializzate e rese sanguinose molti anni dopo sono inventate nella campagna antimodernista che non è un'inquisizione solo perché manca il potere temporale e braccio secolare ma la logica è quella lì negli anni 80 con la teologia della liberazione Ratzinger ha fatto esattamente lo stesso cioè ha preso tutta una serie di cose che erano anche molto diverse fra di loro perché c'era una parte di quel mondo lì che immaginava che il destino della chiesa fosse mettersi a capo dell'emancipazione rivoluzionaria della lotta armata del proletariato c'era una parte che pensava che senza il marxismo non si poteva leggere il libro dell'esodo perché non ci si capiva niente e c'erano anche tante altre cose tutte queste cose le ha fatte diventare la teologia della liberazione e la condannata la condannata ha condannato i teologi ha condannato i preti ha fatto vescovi solo quelli che ne parlavano male perché condannare i teologi sapete non è che poi conti molto anzi delle volte si fa fortuna in libreria e ci sono di quelli che sperano tanto che li condannino così finalmente qualcuno li legge tirano un po' di coppia ma soprattutto è stato fare i vescovi quelli che ne parlavano male senza badare se erano cretini stupidi immondi zozzi purché ne parlassero male andavano bene e questo ha fatto un bel miracolo cioè l'America Latina è diventato un continente dove c'è la crescita del mondo pentecostale più ampia di tutto il pianeta ma guarda allora Bergoglio è stato un nemico acceso aperto di una parte di queste teologie della liberazione ed è stato dall'altra parte invece un amico e un figlio di alcune di queste teologie della liberazione soprattutto di quella di un teologo Lucio Gera un altro italiano che hanno emigrato in Argentina da grande da preto gesuita che è il teologo della liberazione a cui lui si ispira se lui vorrà toccare il tema della povertà le cose su cui dovrà pronunciarsi sono quelle che più o meno ha già toccato in alcuni dei suoi discorsi prima questione la povertà della chiesa la povertà della chiesa la povertà della chiesa che non è è semplicemente una questione atletica un po' come i corridori che più la chiesa è vestita di nylon aderente più corre veloce nella gara del Vangelo è una questione teologica quella che è scritta in Lumen Gentium motto che dice che la chiesa deve essere povera perché era povero Gesù che è obbligatorio perché era povero Gesù non è questione che c'è una cilindrata massima e una cilindrata minima che ci sono i requisiti ma anche c'è quella questa seconda questione della povertà è quella che riguarda quello che la chiesa per i poveri fa che è una parte che è stata anche dentro le encicliche sociali è una parte sulla quale la chiesa raramente fa brutta figura perché alla fine di una miliardata di cattolici bastano centomila santi e fai già bella figura quindi su quello non si va mai a testa a testa rotta e poi riguarderà invece il terzo punto che è quello più importante e più complicato e cioè il papa latinoamericano si è stato fatto con l'idea di spostare la capitale della chiesa cattolica spa nel continente dove c'è più mercato per il brand cattolico è una sciagura ed un disastro se è stato come in parte senza altro è stato una deeuropeizzazione la deeuropeizzazione non guarda l'america latina guarda l'asia e guarda una povertà diversa che la povertà di una chiesa che devi imparare a parlare le lingue dell'asia su questo c'è il punto di conflitto conflitto con Ratzinger conflitto teologico Ratzinger sosteneva introduttore al cristianesimo nel 1969 che la cultura ellenistica ha acquisito grazie ai parri della chiesa un diritto di cittadinanza una citazione un diritto di cittadinanza perpetuo ed irrevocabile della chiesa e cioè l'idea che o si pensa al cristianesimo nelle culture della filosofia greca o non si pensa al cristianesimo era quella cosa buffa che mi disse una volta Rachel Donadie una giornalista del New York Times che vide un discorso di Ratzinger e disse non c'è neanche una volta Logos non è suo perché era il suo modo di pensare il cristianesimo è capace di parlare del cristianesimo senza parlare in greco se ci riesce bene il cristianesimo farà un'altra delle sue capriole se non ci riesce la farà un'altra volta non è che poi è obbligatorio che la vediamo noi però insomma quando ha smesso di parlare era mai che ha imparato il greco è stata una bella capriola quando ha smesso di parlare il latino e ha imparato il russo opla è stata un'altra cosa imparare il cinese è un po' complicata però ci se la può fare un'altra cosa che ha colpito ed è uno degli argomenti che è sempre più all'ordine del giorno è stato quando ha salutato la fine del Ramadan cioè il rapporto con le altre religioni di Papa Bergoglio secondo te come si potrebbe evolvere per la Chiesa nei confronti intanto dell'unità dei cristiani e poi anche nei confronti delle altre religioni la preghiera col butfi eccetera insomma ci sono diversi segnali di un'apertura anche vabbè l'andata a Lampedusa era già di per sé un atto più che significativo sul piano dialogo interreligioso credo che quello che è accaduto nel Vaticano Secondi in qua sia una cosa che spiega parecchio della persona di Bergoglio Bergoglio è il primo che diventa Papa avendo scritto un libro a quattro mani con un rabbino e se è vero quello che diceva Barthe che l'unico problema ecumenico è il rapporto con l'ebraismo lo ha lo ha preso dalla parte giusta il problema del rapporto con le religioni fin dall'equivoco che sta dentro la nostra età la nostra età deve essere un documento sugli ebrei poi diventò un documento sulle religioni per anacquare la questione del rapporto con l'ebraismo e poi invece ha mostrato l'importanza di quel rapporto originario perché la Chiesa Cattolica sperimenta con l'ebraismo tutte le chiese questo è onestamente più avanti di molte delle altre chiese cristiane la Chiesa Cattolica sperimenta nel rapporto con l'ebraismo una fastidiosissima ed essenziale asimmetria cioè se voi siete ebrei fra l'altro buon 1500 buon 5774 che è incominciato ieri se siete ebrei non avete per nulla bisogno dei cristiani per sapere chi siete siete ebrei punto e basta buon notte al secchio gli altri si arrangino non è il vostro problema per pensare voi stessi non vi serve niente se voi siete cristiani non potete pensarvi cristiani senza l'ebraismo cosa che se pensate bene è discretamente scomoda perché non è che ti puoi pensare per secoli la chiesa ha costruito un sistema il cosiddetto supersessionismo col quale dice sai come faccio facciamo così io mi penso in relazione all'ebraismo perché penso che l'ebraismo di fatto non esiste più o non ha più diritto di esistere o deve esistere solo in condizione di minorità di avversazione perché il nuovo popolo di Dio sono sono io la pratica una seconda ha capito che non era vero che non era così e la scoperta di questo ha cambiato drasticamente i rapporti con gli altri nel senso che la chiesa non ha più immaginato che essere il sale della terra fosse il preannuncio di un mondo trasformato in una grande salina ma ha capito che essere il sale della terra vuol dire che la terra rimane terra e il sale rimane sale e che la minorità non è una condizione sciagurata che se solo avessimo due o tre cose la potremmo anche rovesciare ma è la condizione benedetta nella quale il cristianesimo si può si può trovare in questo il rapporto di religione mi sembra non ha degli aspetti particolarmente innovativi tranne il fatto che sempre di più incontra una sensibilità comune con quello che è il popolo di Dio quando Assisi nell'86 vide arrivare Voitila il rabbino il Mufti e i capi indiani ci furono reazioni di sconcerto Ratzinger non andò per protesta non andò per protesta oggi questa è una cosa che se un cardinale non andasse per protesta una cosa di questo genere sarebbe coperto dall'udibrio generale perché tutti i cattolici ormai considerano questo come una cosa che è da fare che è scontata poi non toglie che siano ancora gratta gratta antisemiti islamofobi e tutto quello che c'è da essere però lì c'è un punto questa novità nella chiesa porta con sé la necessità secondo te di un ripensamento cioè te la dico proprio brutalmente non c'è bisogno la chiesa dopo tutto quello che è successo di rimettersi a un concilio e ripensarsi nel profondo sì nel senso che prima o poi uno un concilio lo convoca e a sportersi su quelle cose lì si fanno delle brutte figure perché Martini del 99 disse che entro dieci anni era necessario fare un concilio ne sono passati quindici e così Bergoglio è uno che un concilio potrebbe anche convocarlo quando si guardano i vescovi l'idea di fare un concilio viene da farsi sia della croce delle volte però poi questo osserviamo noi storici è sempre stato così se uno guardava i vescovi nel 1545 si fa fare un concilio a questi qua ma ammazzali sterminali è anche vero che molte cose anche del Vaticano secondo sono state fatte a prescindere dai vescovi o comunque con apporti e sostegni e sostegni no 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 e ci possono essere tutti i teologi del mondo ma quando poi c'è il concilio ci sono quelle teste lì c'è una bella cosa che la preparazione dei documenti conciliari avviene anche con apporti non solo di quelle teste di vescovi che tu dici con Gar che era la mente più alta del Vaticano secondo l'11 ottobre non riesce ad aspettare la fine della cerimonia di apertura perché li vede e dice sarà un disastro un disastro una cosa lui va via scrivendo nel diario Bonifacio ottavo che regna e Pio nono che regna cioè per cui a vedere l'episcopato non ci si aspetterebbe molto però il concilio ha quella caratteristica lì che funziona in un'altra maniera non è semplicemente una somma di intelligenze o una somma di tipo ideologico ha un'altra caratteristica questo potrebbe benissimo farlo può essere una cosa che sta nella testa di di Bergoglio può darsi che lo faccia che lo faccia successore qualcuno comunque lo farà questo è poco ma sicuro anche se la cosa difficile di un concilio oggi è quella che la chiesa cattolica pretende di fare concili ecumenici da sola al Vaticano II ha fatto un concilio ecumenico da sola e ha invitato gli altri cristiani e questo ha dato all'ecumenicità del Vaticano II un altro profilo il domani fa pensare che le chiese cristiane potrebbero forse dovrebbero porsi il problema di una sinodalità comune delle delle chiese e anche se è difficile immaginare quella che sia la forma in ogni caso questo suppone prima di uscire da quella condizione che oggi c'è che è quella che le chiese cristiane sono diventate ed è una benedizione di Dio gentilissime fra di loro anziché vedere il Papa e chiamarlo lui d'anticristo il presidente della Confederazione Evangelica lo chiama caro fratello il Papa quando vede un pastore luterano anziché di strumento del demonio gli dice caro pastore e vai via di questo passo però dalla gentilezza all'unità c'è ancora qualche cosa da fare grazie credo che abbiamo finito così ringrazio della vostra attenzione e il professor Meloni che come sempre ogni tanto mi ha pure dato qualche correzione giusta perché io dai professori ho sempre da imparare grazie grazie a tutti